... Chi sei? Cosa si è successo? Niente, un altro che ha visto i dischi volanti. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Al prossimo episodio Nel febbraio del 1960 il sottoscritto si trovava in qualità di brigadiere dei Carabinieri nel comune di Carpeneto Veneto, un paese di circa 2000 abitanti, dedito per lo più all'agricoltura. Da molto tempo la gente parlava dei dischi volanti, ma le sole persone che li avevano visti erano venditori ambulanti, levadrici, contadini ubriachi e comunque tutta gente dedita a vita notturna, al vagabondaggio e all'accattonaggio. Ma la notte del 25 febbraio, l'ingendio di una fattoria, collegata a fatti misteriosi e inesplicabili, richiamo l'attenzione dei giornali, della radio e anche della dv. Al fuoco! Eccoci qua arrivati in questa meravigliosa zona della campagna Veneta per la nostra trasmissione televisiva e in seguito agli avvenimenti straordinari di questa notte proprio per avvicinare, per sentire dalla viva voce dei testimoni quello che è successo. Ecco, fermiamoci un momento qua. Signora? Eh? Signora, per favore, dove sono scesi i marziani? Dappertutto, è messa i campi, spussa! Una palla di fuoco che girava, poi si è diventata arancione, poi si è fermata, poi si è diventata un triangolo. Volava sopra il campanile, sembrava dischi volanti. Insomma, come piatti di minestra. Che minestra? Minestra dei Fasioi. Mi voglio andare a Roma. Mi dica, lei ha visto il disco volante? Il disco volante, sì. Si ferma nel prato, senza rumore, viene giù dal cielo, in mezzo alle erbe, come le vacche. Hai avuto paura? No, bravo! E adesso sentiamo la voce di questa gente, qualche impressione, ecco, questa signora probabilmente scende per fare delle spese. Signora, che cosa ha visto lei? Io non ho mai fatto male a nessuno, non ho paura, quindi chi ha la cosiddetta a posto non ha paura di niente. Vengono da miliardi di chilometri, ma con quale carburante scusi? Eh già, con quale carburante? Sentiamo lo scrittore, l'intellettuale, il poeta del paese. Prego. Dica. Mi chiamo Dario Marsicano, impiegato al telegrafo. Ho scritto undici commedie non rappresentate e tre romanzi inediti. Bravo. Ci sono in provincia scrittori di grande valore che a Roma vengono boicottati dai soliti Moravia e dai soliti Pasolini. Eh, giusto. Devo ripetere? No, grazie, basta così. Grazie. Ed ora sentiamo il sindaco del paese. Strade, ponti, corriere, alberghi per dare abito al turismo, per far girare il soldo, che quando gira per il ricco, gira anche per il povero. E basta con queste ciacue che danneggia il turismo. Certo, grazie, sr. Prego. Ed ecco la moglie del sindaco. Su, su, coraggio, timida. Beh... Avanti. Beh, se uno ha un forte sentimento religioso e un vero attaccamento alla famiglia, certe cose non le vede, nemmeno le pensa. Eh? E fra le tante nostre interviste non poteva certo mancare quello con il prete, con il prete di questo paesino, un prete povero e semplice, Don Giuseppe, un parroco tanto amato dai suoi parrocchiani. Eccolo qui, Don Giuseppe. Mi dica, cosa ne pensa di queste apparizioni che come vedi hanno turbato il tempo e forse hanno turbato anche le coscienze dei suoi parrocchiani. Anche su Eminenze il vescovo dice sempre non credere Don Giuseppe e i marziani non esistono, non aver paura. Il diavolo si traveste in tante maniere sotto forma di dona, di coniglio. Stare in compagnia e bere un bicchier di vino. Ma perché le piace il vino, eh? Non lo nego. Ma mi dicono che lei vada molto spesso in osteria. Nostro Signore Gesù Cristo diceva sempre stare in mezzo alla gente e dove va la gente nei nostri paesi. In osteria. Arrivederla, vado dai miei parrocchiani. Va in canonica? No, no, in osteria. Si è ruotato Gesù Cristo? Quale medico condotto? Direi che si tratta di fantasie oniriche, sogni ad occhi aperti e che hanno origine nel subconscio ed esplodono in psicosi collettive. disemose la verità. Se beve troppo, graspa, vinte, tutto insomma. Adesso basta. Non parlo altro. Non parlo altro. Mondo boia. Cosa ha visto lei? Non so niente. Proprio niente. Non mi interessa. Robano matti. Come se li immagina? Vese tanta volgarità, tanta violenza nel mondo e loro invece isettanto gentili. Ecco la contessa Crosara. I contadini hanno troppe esigenze, vogliono mangiare carne tutte le settimane e non rispettano più i padroni, rubano a man bassa e poi si figuri a chi danno la colpa, ai marziani. È un'opinione. Mami, ti prego, permetti che anch'io pari alla tv. Permette, Vattenetta. Dunque io suppongo, vero, che questi strani, curiosi esseri siano privi di sesso e che tentino di comunicare con noi attraverso quelle loro antennine, ma che sono stato... Mazzarella, Mazzarella, lei non badia, mio figlio, quello è mezzo deficiente. Ehi, quell'uomo. La nostra provincia è bella e piena di ossigeno e basta con le brotture di Roma. Continuiamo la nostra inchiesta e trasportiamoci in una zona più povera. Ecco un casolare isolato, una donna che scappa con i bambini. Signora, ma perché scappa? Signora, non abbia paura del nostro microfono, venga qui, ci faccia qualche dichiarazione. Su, signora, ci dica, ma lei di queste apparizioni misteriose, che cosa? Mi sono una vedova con sette figli e un porco. Ma l'hai mai vista dai marziani? E quanto abitate per quest'intervista? Ma niente. Ah, lo sapevo, eh? Beh, adesso basta. Per favore, dov'è la tenenza dei carabinieri? Mi hanno fatto niente. A via, i carabinieri. Ah, i carabinieri c'è da qui a parte. Ah, grazie, andiamo. Lei, brigadiere? Posso parlare? Non ritengo opportuno fare delle intagini, non avendo avuto nessuna denuncia da parte di privati e da endi pubblici. Comunque, come ripeto, non mi pronuncio perché la cosa non mi combede. E non mi combede perché né marziani né dischi volanti sono di nostra competenza. Bravo, brigadiere. Molto disinvolto. No, non si tratta di essere disinvolti. Basta avere delle idee chiare e delle cose ben precise da dire. Brigadiere, la vogliono al telefono. Bisogna essere disinvolti. Pronto? Brigadiere Peruti. Senta, brigadiere, che va dicendo alla televisione? Che la cosa non ci compete, come bene. Ma come non le compete? Tutto ciò che accade nella sua zona è di sua competenza. Che figura vi lo farà la televisione? Apre immediatamente delle indagini. Va bene, comandante, se lei me la ordina farò subito le indagini. Ecco, apre immediatamente un'inchiesta. Faccia delle indagini, segua gli evenimenti e mi mandi ogni giorno un rapporto sulla situazione. Senza andrà d'accordo, comandante. Arrivederci a tutti. Stavo dando da mangiare al vitello alla luce di una candela. Alla luce di una cantela. A un certo punto ho sentito come un suono di un organo. Sono uscita qui e ho visto il disco volante là. Dove precisamente? Dove? Là. Quanto era grande? 12 metri per 6, tutto d'argento. 12 metri per 6, tutto d'argento. Avanti, partire. Poi si è aperto la porta del disco volante e è sceso un cinese. Com'era vestito il cinese? Gambale di nylon fino a qui. Busto attillato pieno di perle, casco in testa e gambaletti color rosso tango. Casco in testa e gambaletti color rosso tango. Prendesti paura? No, assolutamente. Anzi, mi piaceva. E che te fece il cinese? Mi prese in braccio e mi disse non amare il papà e la mamma. Ecco. A domanda risponde. Mi prese in braccio e mi disse non amare il papà e la mamma. Prosegui. Poi è andato giù di là per il prato. Vedi, ci sono ancora i segni. Hai mai avuto altre visioni? Sì, l'anno scorso ho visto la Madonna. Sì. Fanduzzi, andiamo? 5, 10, 11 e 12. Ecco, brigadiere, qui si è posato il disco volante. 1, 2 e 3, a forma di cianco. E il Marziano? Il Marziano è sceso qua e andò da quella parte. Allora non ci resta che seguire la pista. Fanduzzi, andiamo. Ecco l'erba cercata. Questa è la pista che dice la bambina. Venite la presto. Cosa vuoi che ti dica, mammi? A me questo brigadiere, da quando si è fatto crescere quei baffoni, non lo posso sopportare. Cosa fa quel brigadiere nelle nostre proprietà? Ma andiamo, mamma, che domande? Lo sai perfettamente. Cercano i marziani, no? E questi? Ma guarda che carini, questi carabinieri nuovi che ci hanno mandato, così giovani. Mammi, basta, smettila di guardare i carabinieri e preparati che arriva la tua fidanzata. Uffa! Ma che viene a fare questa mia fidanzata? Io la odio. ci troviamo in un bivio, la traccia si biforca. Il primo è andare là e il secondo è andare qua. La bambina ci disse che era uno. Si sarà diviso in due. Andiamo, non facciamo commenti inutili. Voi quattro seguite questa pista, io e Fanduzzi seguiamo quest'altra. A mezzogiorno in punto ci troviamo in caserma. Arrivederci, brigadiere. Andiamo a Fanduzzi. Carlinato in fila indiana. Attenta la banca. E qua si sono divisi un'altra volta. Vuol dire che ce le vediamo anche noi. Due di qua e due di là. Ma quanti sono diventi? Non saprei, qua non ci si capisce più niente. Fanduzzi, che succede? Niente, Don Giuseppe è cascato col ciclomotore. Giorno, Landro, ho schiaffo dentro. Ecco, che pota. La pagnota. Ecco. Scusate, signora Vittoria. Dove eravate questa notte alle dieci e un quarto? Ficero al casino di Monte Carlo a giocarmi i milioni che mi avanza. Avete ricevuto qualche visita? Una visita? Un individuo che campaletti rossi e casco in testa. Ma stai cercando i marziani a casa mia. Comunque, se vedete un individuo sospetto, avvertite in caserma. Sì, sì, va là, va là. Se trovo un marziano lo mando proprio a voi altri. Porca bestia anche a un marziano adesso. l'amore di nativo, l'ambizione di che amore, ma io temessi gli stradini. Malgrato tutto, avevo fame di un significato nella vita e adesso so che bisogna alzare le vene e prendere i venti del testino. Dare un senso alla vita può portare alla follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'eterna inquietudine del valle di Dere. è una barca che anela al mare e pure il tempo. Adesso parta con te robe. Dimmi porca. Porca. Scusatemi tanto. Mi avete riconosciuto? No, ragioniero. E la signora? Forse, ma non l'ho vista abbastanza. Lui è ragioniero quello che sta al telegrafo, ma lei chi era? Se posso anche sbagliarmi, ma da quello che ho visto è la moglie del sindaco. Buongiorno, signora. Buongiorno, brigadiere. L'aspettavo. Prego, si accomodi. Prego, si sieda. Grazie, signora Meneghello. Mi scusi la domanda, signora Meneghello. Una semplice formalità. Ieri sera da 9.30 alle 10 lei si trovava in casa? Sì, ero in casa. Sola? Sola. Signora Meneghello, da 9.30 alle 10. Prosegue. Le ripeto, erano le ore 21.30. io ero seduta qui e mi sentivo Stellina. Conosce Stellina? Chi è Stellina? Una canzone. Metto il disco. L'avrò sentita 20 volte oggi. L'avrò sentita 20 volte. Che succede? Non disturbarmi, non ti vedi che sto parlando? Dove ero rimasta? Ascoltava Stellina. Prosegua. Mi sono avvicinato alla finestra. E chi ha visto? C'era un marzialo. Tutto nudo. E camminava lentamente nel fruttito. Signora Meneghello, dato che questo essere non ben identificato, si è presentato nudo. Mi saprebbe dire di che sesso era? Maschile. Era maschio. Sei sicura che era un uomo? Ma come lo era. Maria, vergognati. Ma che fai? Non brucia la mano? Basta così, signora Meneghello. Grazie tanto e arrivederci. Il magazzino di legnami è mio e è di mio padre. Mi vogliono far passare per pazza. Sì, e lui è d'accordo. Tutti i capocci del paese sono d'accordo per fare tenere nascosta la cosa. Da dove sei, Scempì? E' qua. Si attento, brigadiere. De che malattia si tratta? È una classica nevrosi da transfer. Da transferta, dici? Da bambina era innamorata di suo padre poi sposò un uomo grossolano nel quale non ritrovò suo padre. Così, durante quelle crisi che Freud definisce sogni ad occhi aperti lei vede nel marziano nudo l'uomo ideale padre e amante insieme che in transfer diventa un semidio. Tant'è vero che viene dal cielo per amarla e proteggerla. E perché ho parlato alla televisione? E chi sei che non vorrei parlare alla televisione? Anche a me. Pure io ho parlato alla televisione. Grazie, dottore, arrivederci. Se beve massa, questa è la verità. No, fantuzzi. C'era qualcosa di grave, brigadiere? Sì, mi hanno bruciato una mano. A domanda risponde vede nel marziano l'amante del marito venuto a proteggerla e vuole parlare alla televisione come tutti in provincia. Quindi è da presumere che il fienile si sia bruciato per la caduta della cantela e che la bimpa abbia inventato il disco volante per sottrarsi alla punizione dei genitori noti individui violenti e maneschi. La suddetta signora Meneghello dichiaria in Londra che stanotte il disco volante col marziano ritornerà. Ritornerà? Firmato brigadiere Vincenzo Beluti Firmato brigadiere Vincenzo Beluti Buonasera a tutti Siano dato a Gesù Cristo Oh! Volete sentire l'ultima? Hanno scritto una lettera una lettera su Eminenza di Vescovo lettera anonima perché tutte le sere mi faccio il giretto delle osterie Coraggio a Don Giuseppe Grazie per gradire Salute a tutti per gradire senza rancore Salute a tutti Salute a tutti Ma se voi non venite a trovarmi in parocchia come faccio io a portarvi la mia parola di conforto? Salute Salute a tutti e volersi bene Anche in America si beve tanto Il russo beve Il ricco beve un whisky Il povero se beve un bicchiere di vino sano e non fa tante critiche Asso Cavallere è tutto nostro Signor Sindaco Dica ragionieri vuol prendere il mio posto Con piacere per una mezz'oretta Buona partita Signor Sindaco vado e torno Vada tranquillo Grazie Ah signor Sindaco non mi faccia perdere Farò del mio meglio Tolgo il disturbo me ne vado vado a trovare un morto Buonanotte signor Sindaco buonanotte brigadiere buonanotte a tutti Siamo adattati Gesù Cristo buonanotte Piove Asso di denaro E se spegne la luce Angerito per favore Le 9.33 Ce ne siamo Solo quando tuo marito gioca a carta al posto mio tu sei qui con me ma un giorno fuggirò con te ti porterò a Parigi Montmartre Pigalle Chevaliere E' un gran letto soffice Sì E mi contute fiume Sì E te vedi per terra Sì Mi sono stufa di incontrarmi con te lungo i muri dietro le siepi e dentro i fossi Che facciamo ci fermiamo qui No dai qui no che passa gente Andiamo più avanti Che vita Ma perché hai fermato? Io si è fermato da sola Mmm Furbone Furbo Furbo Ti giuro Dolores si è fermata da sola Poi che facciamo qui Subito Buona ferma Ti dico prima la poesia quella che ti piace E adesso so che bisogna alzare le vele Prendere i venti del destino Dare un senso alla vita può portare alla follia Ma una vita senza senso E' la tortura dell'eterna inquietudina E del vano desiderio E' una barca che anela al mare E pure te Dime porca che mi piace di più Porca zio Dimene Dimene che bestia sto maltempo Ecco Sei fermato da sola Ecco L'elettrico non funziona più Mai successo Sì Chi me chiama? Comandi Ecco Padre Padre Signore Se il cielo sia santificato il tuo nome Sì Chi me chiama Grazie a tutti. 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 Bello. Grazie a tutti. Buoni. Dario. 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 Sono impiegato. Dario. 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 No. Dario. 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 Dario.